Siamo al nostro CEO Summit, puntellare la crescita economica del paese ha espresso questo concetto molto molto bello Giuseppe Di Vittorio, lo fa sicuramente un settore che esprime il meglio nel nostro paese in termini di ricerca, innovazione, sviluppo, sviluppo del business e non solo, parliamo appunto di innovazione nel settore farmaceutico. Allora invito a salire sul palco e vi chiedo gentilmente di sedervi in ordine di chiamata sulle poltronne che sono qui alle mie spalle. Daniela Delle Donne, amministratore delegato di Betcon Dickinson Italia. Buonasera. Barbara Marini, general manager di Intercept Pharmaceuticals Italia. Vedo già una bella rappresentanza di Quota Rosa che non ci dispiace, anche se non siamo molto appassionati di questa questione del genere, però ci fa piacere lo stesso. Buonasera anche a Massimo Visentin, presidente e amministratore delegato di Pfizer Italia. Vincenzo Abruscato, amministratore delegato di Bausch & Lomb Italia. E infine Massimo Scaccabarozzi, amministratore delegato di Janssen Italia. Dalla scorsa settimana ha confermato presidente di Farmindustria per il prossimo biennio, per cui un applauso ancora più vigoroso per il presidente. Per coordinare questo dibattito, mi fa piacere rivedere, perché non la vedo da un bel po' di tempo, Michela Vuga, giornalista scientifica. Eccoci qua, guarda, vuoi fare il salvo? Ottimo. Ci guadagniamo la sedia, la scala centrale. Grazie. Ottimo, Michela. No, io... Vuoi stare in piedi, presedici così? In piedi. Molto bene, buon lavoro. Grazie. Allora, buonasera a tutti, buonasera anche a voi in platea. Allora, le realtà di questo SEO Summit e la realtà del mondo della salute sono delle realtà importanti, ma secondo me alcuni di voi non le conoscono tutte, perché noi abbiamo una parte della platea che è fatta da studi legali, eccetera. Quindi io volevo brevemente dare l'opportunità a due delle realtà che secondo me sono poco conosciute di farsi conoscere. BD Italia, partirei da qui, Becton Dickinson & Company, che nessuno magari sa... Quanti di voi hanno fatto un esame del sangue di recente? Eh, chi ha fatto almeno un esame del sangue nella vita ha avuto a che fare con BD Italia, vero, dottoressa delle donne? Presumibilmente sì, perché il 90% dei prelievi fatti in Italia e non solo avvengono attraverso tecnologia BD. BD è una multinazionale americana nata nel 1897 nel New Jersey. Oggi conta 65.000 dipendenti, 16 miliardi di fatturato, siamo presenti in 190 paesi. In Italia siamo più di 300, con più di 300 milioni di fatturato e uno stabilimento produttivo. E il prodotto che lei ha citato è solo uno dei tanti che fanno parte del nostro product portfolio. Però è una realtà molto ben conosciuta, stabilita, è una public company e fiera di operare con successo nel mercato italiano. L'altra realtà, rappresentata anche lei da una donna, Barbara Marini, allora Intercept ha un cuore italiano, però è quotata al Nasdaq. E quindi forse vale la pena di spiegare chi è, cosa fate? Allora, assolutamente sì. Buonasera a tutti e grazie per l'invito innanzitutto. Allora, Intercept ha un cuore effettivamente italiano ed è effettivamente quotata al Nasdaq. Nasciamo intorno agli anni 2000, quindi inizi del 2000. In realtà proprio la fondazione, quindi l'azienda, viene fondata nel 2002 da due co-chair, un italiano e un americano. Un giovane medico canadese, anzi, e un fantastico ricercatore chimico italiano, il professor Roberto Pellicciari. E' una vera storia di imprenditoria. Non siamo nati in un garage, ma in un mini appartamento di New York, da cui si lavorava da una scrivania. Una vita abbastanza dura di raccolta di fondi, fino in realtà al 2006. Altro momento molto importante, perché un major investor italiano milanese ha identificato in questa azienda una innovazione molto interessante. Noi ci occupiamo di patologie croniche non virali del fegato, tra cui malattierare. E quindi ha creduto in questa visione e ha investito significativamente in questa azienda. Nel 2012 poi siamo sbarcati al Nasdaq per una importante raccolta di fondi che ci ha consentito la fase 3. La ricerca e sviluppo farmaceutico, qui non voglio, come dire, insomma, il presidente Scaccato Rozzi sicuramente è molto più qualificato di me, ma è molto costosa e quindi il Nasdaq ci ha consentito di portare finalmente nel 2016 un farmaco molto importante per patologia rara. e siamo presenti quindi anche in Italia. Un piccolo commento, nel 2014 l'azienda è virata da ricerca e sviluppo a una struttura commerciale. Diciamo che sono molto contenta. Oggi qui abbiamo il Chief Commercial Officer, Lisa Bright. Dov'è? Vediamola. Se la salutiamo, visto che è arrivata a trovarci, grazie. E lei ha creato tutta l'infrastruttura commerciale worldwide. Allora, il tema che affrontiamo adesso è l'innovazione. Io ho giocato un po' da giornalista scientifica, sono andata a vedere di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione, noi giornalisti. E si parla di tutto, dalla medicina personalizzata ai farmaci innovativi, appunto, piuttosto che le terapie cellulari, eccetera, eccetera. Quello che volevo capire, invece, voi che vi occupate di questo mondo, anche se abbiamo capito non tutto è farma, qualcosa è vicino al farma, ma fa parte del mondo della salute, capire che cos'è l'innovazione nella vostra azienda e che messaggio portate come innovazione. Partirei da Massimo Visentin. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'invito anche da parte mia. Chiaramente Pfizer è un'azienda che fa dell'innovazione la sua anima, il suo cuore. Noi di fatto abbiamo un obiettivo tanto semplice quanto sfidante, che è quello di migliorare la vita delle persone. E questo lo facciamo attraverso degli investimenti molto importanti nella ricerca e sviluppo. Investiamo circa 7,5 miliardi di dollari ogni anno in ricerca e sviluppo. Per chi non lo sapesse, per sviluppare un farmaco ci vogliono mediamente 2,5 miliardi di dollari. E soprattutto ci vogliono 15 anni. Per cui è un grande impegno, non solo economico, ma anche un impegno delle persone a continuare a perseverare nella ricerca. Quali sono le aree su cui Pfizer è focalizzata? Sono varie. Noi siamo un'azienda estremamente diversificata con il nostro portafoglio. Ci occupiamo della prevenzione, quindi abbiamo dei farmaci, non sono farmaci, abbiamo i vaccini di fatto. Ma soprattutto abbiamo grandi investimenti sulla parte oncologica e sulla parte di malattie rare. Ad esempio la gene therapy è un'area su cui stiamo cercando di investire molto. Abbiamo poi grandi investimenti sulla parte inflammation, quindi artrite reumatoide ad esempio, piuttosto che storicamente nell'ambito del cardiovascolare. Lei ha parlato anche di sostenibilità però, che è questa una grande sfida. Perché l'innovazione non può essere oggi forse non sostenibile. Perché dobbiamo fare i conti in senso stretto proprio. Assolutamente, ma in realtà la sostenibilità c'è. Nel senso che i nuovi farmaci hanno due peculiarità. La prima è che curano malattie che in passato non venivano assolutamente curate. Oppure le curano in modo molto diverso. Pensate, il cancro in passato veniva, di fatto veniva, si cercava di prolungare la vita delle persone. Adesso invece è stato cronicizzato, si sta cronicizzando. Quindi diventa per sempre, una persona deve convivere con questa malattia e deve quindi sonnimistrarsi per tutta la vita dei farmaci. Ecco, questo cambia drammaticamente il modo con cui viene curato un paziente. In passato un paziente oncologico veniva trattato in ospedale, adesso viene trattato a casa. Ecco, apparentemente i costi non sono sostenibili perché ci sono molti più costi legati al fatto che le malattie sono state cronicizzate. Ecco, quello che bisogna fare è avere un approccio un po' noi diciamo olistico, nel senso che non bisogna limitarsi al budget farmaceutico quando uno Stato, un paese come l'Italia affronta il problema della salute. Ma deve pensare che attraverso il miglioramento della qualità della vita e della salute di fatto si hanno dei risparmi anche in altre aree, tipicamente ad esempio nell'area degli ospedali. Gli ospedali hanno meno persone che vengono chiaramente ospedalizzate e poi ci sono anche dei risparmi da un punto di vista sociale, nel senso che il fatto di poter prolungare la vita di una persona, farsi che questa persona si attiva, possa lavorare e possa contribuire quindi alla crescita del paese. Ecco, se noi mettiamo assieme tutti questi aspetti, sicuramente l'investimento è sostenibile. Chiaramente se invece guardiamo la spesa da solo come un silos, chiaramente questo diventa un po' più complicato proprio perché adesso è il periodo in cui dopo anni e anni di investimenti stanno entrando sul mercato farmaci veramente innovativi e rivoluzionari. Un approccio listico però alla risposta. Vincenzo Bruscato, che ha un punto di vista un po' allargato, perché Banshelom non fa solo lenti a contatto che tutti conosciamo, ma avete anche una divisione chirurgica, una divisione farmaceutica, quindi volevo capire il suo punto di vista, di come sta cambiando l'innovazione in questo mondo e come si approccia la sua azienda a questo cambiamento. Sì, grazie Michela. Io sono d'accordo con quello che è stato detto finora. L'innovazione è chiaramente il motore dello sviluppo delle aziende farmaceutiche. Ci sono stati negli ultimi anni dei progressi fondamentali, sia nel campo della biologia, sia nel campo dell'elettronica, nel campo della tecnologia. Banshelom, come dicevi giustamente, copre diversi settori, sia quello tecnologico, sia quello farmaceutico, quindi ha svariate linee di ricerca. Cosa ti posso dire? Di carattere generale io credo che la ricerca sia cambiata da un modello lineare. Una volta, penso che la maggior parte delle persone qua all'interno della sala pensano che ci sia un ricercatore che fa la ricerca di base, e poi la ricerca di base viene applicata dall'applicazione, viene fatto lo sviluppo e dallo sviluppo la commercializzazione. Non è più così. La ricerca oggi cambia e da un modello lineare è diventato un modello circolare. Hai bisogno di integrare continuamente nuove competenze che trovi sul mercato. Quindi vengono integrate le istituzioni attraverso le università, vengono integrate le tecnologie attraverso le start-up, soprattutto le aziende biotech che in questo momento, insomma, agli inizi degli anni 90 si pensava che tutto il farmaco tradizionale potesse essere sostituito dal biologico. Poi in realtà abbiamo visto che ci mette, insomma, è abbastanza complesso. Nel 2002 è stato l'anno forse più difficile dove ci siamo resi conto che non tutto poteva essere sostituito da questi magnifici farmaci biologici. Quindi cambia completamente il modo di fare ricerca. Bausch & Lomb credo si differenzi in questo modello circolare. Noi, oltre ai nostri laboratori, oltre ai nostri investimenti in ricerca e sviluppo, abbiamo nella nostra divisione un importante ruolo che, per esempio, gioca il business development e licensing nel continuo scouting, scusa, sto usando troppe parole in inglese, nella continua ricerca di nuove realtà iper specializzate che possiamo importare all'interno delle aziende in tutto o in parte con delle alleanze strategiche per aiutarci nello sviluppo continuo, sia delle tecnologie chirurgiche, farmaceutiche, piuttosto che in quella consumer, come quella delle lenti a contatto, che ci caratterizza da 165 anni. Per cui prendete energie, tra virgolette, anche all'esterno, per riuscire in questo processo di innovazione. Volevo tornare da Barbara Marini per un discorso di... Per voi che fate questo settore così particolare di malattierare e siete una start-up, l'innovazione per voi che cos'è? Allora, è la motivazione, è quello che ci tiene svegli tutte le mattine, veramente in tutto il mondo. Abbiamo tre sedi, San Diego, New York e Londra, diciamo, gli headquarter e abbiamo più di metà dell'azienda che è ancora in ricerca e sviluppo. Quindi il nostro asset è effettivamente ricerca e sviluppo, altamente innovativa, in patologie molto rare, la cui proprio etiopatogenesi non è ancora addirittura nota e quindi c'è una motivazione veramente molto forte per riuscire a disfare i bisogni che oggi non hanno alternativa terapeutica. Quindi è molto affascinante ed è molto motivante quando poi si riesce a registrare un farmaco, si riesce a negoziarlo in Italia e si riesce anche a superare l'accesso regionale. Quindi tutti i pazienti italiani oggi possono avere accesso a una terapia che soltanto qualche mese fa non esisteva, non era accessibile. Daniela Delle Donne, prima abbiamo sentito Isantin che parlava di un'innovazione che deve essere sostenibile. Questo è un concetto che vale anche per voi, che non fate farma in senso stretto? Questo vale anche per i dispositivi medici. I dispositivi medici devono essere e devono riuscire ad intervenire nel percorso del paziente e a far sì che gli outcome che il loro utilizzo produce siano migliori rispetto a quelli precedenti e soprattutto possano ridurre il costo complessivo del percorso diagnostico-terapeutico del paziente. Questo è il nostro obiettivo. La sostenibilità è fondamentale. I sistemi sanitari, il nostro sistema sanitario ha grossi problemi di fondi, è poco sostenibile e conseguentemente l'introduzione di tecnologia nuova come può essere un dispositivo medico. Ricordiamoci che i dispositivi medici vanno dagli aghe alle siring alle grandi macchine della diagnostica per immagine, quindi dai pochi centesimi ai milioni, all'automazione dei laboratori di microbiologia. Quindi sono tantissimi esempi, sono 500.000 prodotti registrati in Italia. Tantissimi. Tantissimi. Ma l'obiettivo è veramente ridurre il costo delle cure producendo migliori outcome, migliorando la qualità della vita del paziente, salvando la vita del paziente, aiutando il medico nella sua pratica quotidiana e diminuendo la pressione dei costi complessivi dei sistemi sanitari. Per cui l'innovazione sostenibile è un'innovazione che non riguarda solo il prodotto ma tutto il processo, con sempre al centro il paziente. Esatto. I processi, la reingenerizzazione dei processi all'interno degli ambienti di cura o la gestione della cronicità, come diceva il collega, diventano elementi fondamentali per ridurre le pressioni e i costi dei sistemi sanitari. Massimo Scacca Barozzi, l'ho lasciato in fondo. Innovazione, ricerca, sviluppo, Janssen ha investito tanto in questi anni. Poi parliamo anche, allarghiamo un po' lo sguardo, visto che l'hanno appena riconfermato per un'altra volta, e questo è il segno delle sue capacità, indubbiamente. Però parliamo di Janssen innanzitutto. Quanto è investito? Che cos'è l'innovazione per voi? Perché innovazione, ricerca e sviluppo ormai vanno a braccetto. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per questo invito. Io credo che per noi innovazione, ma non vale solo per Janssen, credo che valga un po' per tutte le aziende che si occupano di scienze della vita. Innovazione ha un sinonimo solo. Per il nostro settore innovazione significa vita. Vita significa che attraverso la nostra ricerca noi cerchiamo di dare più tempo alla vita e più vita al tempo. E questo penso che sia uno slogan molto interessante perché la dice tutta sulla nostra missione. Gli investimenti da noi sono importanti. Diceva prima l'amico Visentin che oggi per sviluppare un farmaco ci vogliono dai 10 ai 12 anni, ci vogliono 2 miliardi e mezzo di investimenti. Dopo la fase 1, pensate che nella ricerca farmaceutica ci sono 4 fasi, no? Dopo la fase 1 solo il 4% di tutte le molecole che vengono scoperte può arrivare al paziente. Quindi è una ricerca molto dispensiva. Devo dire una cosa che per quanto riguarda Janssen Janssen magari è poco conosciuto come brand però è il brand farmaceutico di Johnson & Johnson che ha al suo interno non solo la parte farmaceutica ma tutta la parte anche di diagnostica di consumer e noi come ce la giochiamo? Beh, gli investimenti che ha fatto Janssen negli ultimi anni sono stati straordinari soprattutto in termini di risultati. Janssen è una presenza storica perché 11 molecole della nostra ricerca sono state dichiarate dall'Organizzazione Mondiale Farmaci Essenziali per l'Umanità. È stata l'azienda che nell'ultimo decennio ha registrato più farmaci innovativi ben 13 negli Stati Uniti e poi successivamente anche in Europa e credo di poter dire che ha una delle pipeline più interessanti. Abbiamo 35 farmaci in sviluppo in 6 aree terapeutiche. Però l'innovazione nel nostro settore non è solo ricerca pura è anche qualche cosa che va al di là. La ricerca pura, dicevo, dà più tempo alla vita perché se andiamo a guardare che cosa è successo negli ultimi dieci anni lo dicono i dati Istat la innovazione per noi significa riduzione della mortalità. Negli ultimi dieci anni la mortalità in Italia si è ridotta del 23% addirittura in alcune aree del 30%. Malattie mortali come l'AIDS sono diventate croniche. qua mi piace fare un esempio bellissimo. Qualche anno fa, qualche decennio fa un malato di AIDS si sedeva di fronte a un medico e gli diceva che cosa posso fare? Nulla. Il medico poteva solo curargli i sintomi e accompagnarlo in un percorso di educazione perché non infettasse altri. Oggi lo stesso malato si sede di fronte allo stesso medico accanto a sé a un malato di diabete ebbene l'aspettativa di vita del malato con AIDS nonostante i progressi fatti nella diabetologia è superiore a quella del malato diabetico. Questo è un risultato straordinario. Di patite C si guarisce. Non si guariva qualche anno fa. Adesso sì. I tumori. I tumori. Oggi noi abbiamo due malati su tre che a cinque anni sono vivi. Tutto questo è innovazione ma noi siamo soprattutto anche un settore manifatturiero. Siamo un settore che in Italia produce. Siamo un settore che è stato anticiclico nella crisi. Grazie all'innovazione della produzione in un momento in cui tutto il settore manifatturiero in Italia nella produzione faceva meno sette l'industria farmaceutica faceva più venti. Questo ci ha consentito di dare un contributo al pilster ordinario. Noi abbiamo avuto l'export che è aumentato del 77%. Come nessun altro settore e come nessun altro settore ha fatto in Europa. Oggi esportiamo più del 70%. Janssen è allineata a tutto questo perché abbiamo uno stabilimento che esporta il 95% della propria produzione dei 37 miliardi di produzione che vengono fatti nel mondo Johnson & Johnson 8 li facciamo a Latina qua in Italia. Quindi questo credo sia un dato straordinario. E quindi quando si parla di sostenibilità è giusto quello che diceva Massimo Visentin che la ricerca fa risparmiare arrivo subito alla conclusione per esempio pochi lo sanno tutti dicono ma quanto costano i nuovi farmaci in oncologia? Costano tanto? Io dico io non lo so se costano tanto costano molto di più di quanto costassero dieci anni fa però se noi andiamo a vedere l'incidenza della spesa farmaceutica sulla spese sanitarie per un malato oncologico è solo il 25%. Di tutte le spese è solo il 4%. È aumentata la spesa farmaceutica e la spesa per trattare il malato oncologico è diminuita di 250 milioni l'anno. Poi noi siamo un settore produttivo che grazie al contributo che dà il PIL contribuisce a finanziare la parte del sistema sanitario nazionale. Questo credo che sia un dato straordinario di cui pochi si rendono conto nel nostro Paese. Secondo me infatti questa parte qui della platea guardo sempre questo tavolo qui perché dovrebbe essere uno studio legale. io non so quanti dei vostri clienti poi fanno un più 20% in tre anni di crescita e in effetti ha ragione lei perché siccome l'industria farmaceutica è sempre vista un po' così molte persone non si rendono conto di quello che ha appena detto cioè che è un comparto trainante del manifatturiero in Italia e io aggiungo se deve aggiungere perché volevo sentire anche per quanto riguarda la parte invece che non è propriamente farm perché Daniela Daledon è invece anche presidente di Asso Biomedicali quindi quel comparto lì. Esatto, aggiungo alcuni dati a quello che ha appena detto il dottor Scaccabarozzi presidente di Farmindustria io in questo caso metto il cappello di federazione per quanto riguarda il medical device o anzi dispositivi medici parliamo di 3.000 imprese sul territorio italiano con un totale fatturato di 17 miliardi 11 miliardi e mezzo vengono fatti sul territorio nazionale e il resto fa parte di esportazione è un settore che conta all'interno qualcosa come 76.000 persone impiegate ed effettivamente rappresenta insieme al Pharma il 10% del PIL la cosiddetta White Economy giusto? e quindi è un settore molto importante sappiate che la spesa diciamo il settore la sanità in Italia costa 115 miliardi i dispositivi medici rappresentano purtroppo una piccola parte e praticamente il 6 diciamo di tutta la spesa sostenuta dal nostro Stato il 6,7% è dedicato alla spesa diciamo della sanità che si vede dovrà essere ridotta al 2020 al 6,4% conseguentemente sì il sistema deve diventare veramente sostenibile in caso contrario avremo problemi come cittadini italiani magari ad accedere alle cure ad avere l'innovazione nei tempi giusti nei modi giusti ad avere tutte le terapie e i dispositivi medici personalizzati che ci aiutano a guadagnare tempo e quindi a guadagnare vita grazie volevo tornare da Massimo Visentin per capire un po' invece per quanto riguarda i vostri investimenti che valore hanno e su quali sono diciamo il comparto i settori farmaci più importanti per voi come dicevo prima abbiamo un portafoglio estremamente diversificato quindi le nostre aree su cui investiamo i 7.5 miliardi sono sicuramente la parte oncologica molto sulle malattie rare in particolar modo sulla gene therapy prevenzione di vari tipi diciamo le malattie cosiddette infiammatorie quindi tipo artrite reumatoide e poi la parte cardiovascolare che estricamente è sempre stato il punto di forza di Pfizer investimenti che facciamo sia direttamente come dicevo con i 7.5 miliardi all'anno ma anche con molte partnership sia privato con privato quindi con altre aziende come diceva il collega prima adesso è impossibile una ricerca lineare ci vuole partnership sia anche con con il pubblico quindi è diciamo una ricerca è un investimento per la ricerca e per l'innovazione a 360 gradi come diceva il presidente Scacabarozzi di fatto investiamo molto anche sulla parte produttiva in Italia abbiamo tre siti produttivi con 1800 persone nel totale e investiamo ogni anno decine di milioni per migliorare la qualità dei nostri farmaci investimento per noi vuol dire anche migliorare il percorso di cura del paziente quindi facciamo anche molti investimenti con il pubblico per il trattamento post dei pazienti ecco quello che noi vogliamo fare come dicevo è migliorare la qualità della vita delle persone e ogni decisione che prendiamo abbiamo all'interno dell'azienda un motto che si chiama patient first quindi ogni decisione che prendiamo la facciamo sempre e solo esclusivamente nell'ottica del paziente ecco questo per noi vuol dire essere un'azienda innovativa che farà dell'intelligenza artificiale piuttosto che del big data le nuove frontiere per poter accelerare il percorso di raggiungimento del farmaco sul mercato quindi anziché 15 anni speriamo che attraverso big data piuttosto che dell'intelligenza artificiale venga ridotto il tempo e quindi i pazienti possono essere curati prima e meglio come è cambiato il vostro mondo perché uno magari è ancora fermo al fatto di pensare a chi si occupa della ricerca della molecola del farmaco eccetera in realtà la realtà aziendale vostra è fatta di tanti tante figure professionali diverse per fare vera innovazione e ricerca bisogna sempre più allargare ingegneri matematici big data ci vogliono volevo sentire invece Barbara Marini perché tra un'azienda che opera solamente nel settore delle malattie rare e queste aziende che hanno invece una pipeline molto più allargata insomma che differenza c'è per voi allora diciamo il challenge di un'azienda come la nostra è che bisogna essere molto più efficienti bisogna essere molto più focalizzati sulla open innovation quindi vuol dire sfruttare competenze utilizzare competenze cliniche precliniche che sono diciamo nel mondo accademico e ora chiaramente la salute come sappiamo è il bene più importante quindi non esistono malati come dire di seriali di serie B una persona affetta dalla malattia rara è un pochino meno fortunata di chi non è affetta dalla malattia rara semplicemente perché storicamente la ricerca è stata molto limitata e il rischio di fallimento in queste patologie è molto alto non ci si arricchisce con una malattia rara quindi il rischio di impresa è veramente molto alto però la gratificazione che si ha quando si arriva alla fine per noi vuol dire rendere accessibile fisicamente il farmaco al paziente è immensa i tempi stringono ma voglio ancora una battuta del dottore Abruscato a proposito di appunto investimenti perché anche voi avete questa diversificazione di linee poi prima ci ha parlato di innovazione che sicuramente avrà portato a una crescita e poi chiudiamo con Scacca Barozzi come presidente e come anche amministratore delegato di Janssen prego per quanto riguarda Bausch & Lomb posso dire che è un'azienda che si è sempre caratterizzata per delle innovazioni quantiche noi siamo stati la prima azienda che ha lanciato le linti a contatto morbide per dirne una che magari molti possono ricordare nel secolo scorso negli anni 70 abbiamo aumentato e continuiamo a aumentare i nostri investimenti in ricerca e sviluppo noi facciamo parte di un gruppo internazionale con un fatturato di circa 8 miliardi di dollari e investiamo il 20% in progetti di ricerca e sviluppo abbiamo 135 linee di progetti in sviluppo e l'anno scorso solo l'anno scorso nel mondo abbiamo lanciato 100 nuovi prodotti alcuni di questi sono veramente innovativi per esempio quest'anno introdurremo anche in Italia una macchina che si chiama è un nuovo facovitrectum e servono per la chirurgia oculare per la rimozione del corpo vitreo fino ad oggi si è sempre cercato di avere queste macchine con una velocità di rotazione sempre più alta noi abbiamo cambiato completamente la tecnologia e utilizzeremo e introdurremo la tecnologia oltre a suoni questo per dirle un tipo di innovazione quantica che stiamo introducendo per quanto riguarda la parte anche industriale e non è da dimenticare noi abbiamo uno stabilimento produttivo qua in Italia produciamo circa 35 milioni di bottiglie di soluzioni per le lenti a contatto e per la cura delle lenti a contatto e anche lì l'investimento è continuo che permette di avere una qualità continuamente migliorata e questo va incontro anche a nuove esigenze dei consumatori e delle persone che utilizzano i nostri prodotti una battuta da Massimo Scaccaparozzi per chiudere perché mi fanno segno dalla regia che devo stringere perché poi c'è il momento delle premiazioni aziende diverse profili diversi investimenti innovazione tutto questo poi alla fine significa benefici per noi che siamo i cittadini che siamo pazienti quindi c'è una ricaduta che possiamo definire sul piano sociale del vostro lavoro beh assolutamente sì a me fa piacere perché poi vedo che la missione di tutti noi che facciamo le scienze della vita sono più o meno molto simili per esempio la nostra missione è rinchiusa in una frase molto semplice loro dicono patient first noi diciamo patient are waiting i pazienti stanno aspettando quindi tutti i giorni cerchiamo sempre di portare qualche cosa di nuovo perché alla fine credo che facciamo un lavoro meraviglioso è vero che è un lavoro economicamente importante dietro c'è la produzione ma credo che sia fatto di orgoglio amore e passione poter pensare che magari un malato che prima non aveva speranze oggi riesce a vivere ed è bellissimo vedere a volte delle interviste di alcune persone che dicono vabbè io non avevo possibilità di vivere a lungo sto vivendo gli ultimi tre anni serenamente ho visto mio figlio sposarsi ho visto mio nipotino nascere questo è quello che ci appaga di più di qualsiasi altra cosa ogni giorno nel nostro lavoro grazie per averci messo a parte delle vostre considerazioni della vostra passione di questa realtà che è ancora poco conosciuta io cerco Deborah eccola qua era di qua una volta salgo di qua una volta di là e faccio un po' la diva ovviamente a sorpresa complimenti a tutti intanto perché avremmo voluto ascoltarvi ancora a lungo per tutte le belle cose che ci avete raccontato interessanti qua parliamo quasi sempre dei medesimi settori produttivi loro sono un po' più dietro le quinte un po' più come dire modesti anche nell'attività di comunicazione ma forse è meglio così insomma lavorate per noi per farci guadagnare in anni di vita come se questo processo demografico già fosse poco impetuoso comunque grazie a tutti Michela complimenti a te grazie grazie a te noi ci riaccomodiamo adesso io ho una bella galoppata di fronte a me complimenti a tutti grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te